Un mese intenso di appuntamenti a riposto tra cultura, tradizioni e turismo. Mostre, concerti ed esposizioni di opere pittoriche e fotografiche dal 16 aprile al 14 maggio. Una serie di eventi promossi dall'amministrazione comunale ripostese che presenta un preludio all'ormai imminente stagione estiva. Iniziamo come ogni anno, un'opertura dell'estate con le feste di attività inerente alla Pasqua e per tutti i mesi di maggio. Ci saranno diversi incontri, ci saranno dei concerti, ci saranno delle mosche pitture, ci sarà la mosche delle pomerie come ogni anno, ci sarà anche da parte dell'Archeoclub un musical o qualcosa del genere. Sono tutti eventi che ci danno l'apertura all'estate per avere un ritorno dei turisti, tutti quelli che ogni anno ci vengono a visitare perché il riposto merita questo e l'altro. In coincidenza avremo anche l'apertura del G7, quindi grande manifestazione e si augura, così come si era impegnato in cui erano già uno di questi eventi, di farlo anche nel nostro territorio. Il mio obbligo è ringraziare lo storico Conservatorio di Palermo che quest'anno fa i 400 anni di attività, quindi il conservatorio più antico d'Italia, per averci regalato questo appuntamento importante del 13 di maggio con il coro di voci bianche, che in questa settimana sarà ospite del presidente Mattarella a Roma per un concerto nel Senato, al Senato, ripreso in Mondo Visione Rai. Quindi si tratta di un gruppo davvero importante che ha vinto il premio internazionale delle arti. E poi tutta una serie di appuntamenti, fra cui quello stupendo del 22 di aprile, invito tutti perché è una messa dedicata, la messa di Ramirez, dedicata a Papa Francesco. Poi una serie di mostre, avremo anche le attività delle plumerie con l'Associazione La Plumeria, avremo anche altri piccoli concerti, così come la Pasqua prevede, dedicati alla sacralità della Pasqua. Avremo un concerto nella Chiesa Madonna della Sacra Lettera con il nostro organo appena ristrutturato del Seicento. Una Pasqua davvero nella tradizione, nel turismo, perché ovviamente c'è un'attrattiva turistica, e anche nella continuità, nella continuità con la sacralità dell'azione cristiana.